amici canale caccia punto tv caccia village 2018 remo non c'è bisogno neanche presentarti stai su tutti i cartelloni della fiera e poi tutti i nostri amici appassionati ormai riconoscono per le innumerevoli trasmissioni ma anche per tanti meeting che ormai fa in italia caro mio per cui è il peso della notorietà insomma naturalmente stiamo diciamo in casa cani come con te voglio parlare di holosan un vero e proprio successo siete arrivati qui con tutta la gamma dei modelli ieri in fase allestimento stavo guardando un filmato mi ha fatto remo se questo è nuovo c'era un signore per far vedere l'esistenza gli sbatteva una bottiglia di ghiaccio contro di ce l'ho fatta anch'io questa prova lascio a te holosan si allora holosan è una delle importanti importanti brand acquisiti da cari come dalla già da un anno è uscita di nuovo quest'anno con una importante novità che è il green dot se abbiamo andando avanti rispetto al vecchio red dot stiamo guardando anche un pochino verso il futuro green dot è molto visibile perché un green è un verde molto acceso un verde quasi fluorescente ma crea molto meno di stupo all'occhio questa è una cosa importante da dire all'inizio questo è un marchio alla quale noi puntiamo tantissimo perché come diceva prima la tua amica giuseppe è un prodotto che ha una resistenza incredibile una soprattutto una una precisione nella meccanica che è veramente invidiabile siamo contenti di aver preso questo gamma questa gamma di prodotti perché si sta facendo continuamente crescere si sta dando sempre più spazio si sta facendo diventare sempre più grandi è un prodotto che non teme nessun confronto con tutti gli altri prodotti che ci trovano una cosa erano particolare di holosan è che fino a due anni fa questo marchio quasi non si conosceva poi la forza della distribuzione della competenza anche di canicom l'ha imposta sul mercato italiano in maniera molto veloce però vorrei ricordare che questa azienda è l'azienda che produce circa il 70 per cento dei punti rossi sul mercato è importante dire che un'azienda che ha quasi mille dipendenti produce 25 mila punti rossi annuncio il fabbisogno di questa azienda è che il 70 per cento produce invece vado sempre per terzi poi ha creato una nicchia ha deciso di andare sul marchio proprio cioè oltre che brandizzare altri creare un prodotto che non avesse avuto paura di mettersi in competizione con gli altri ma la cosa importante che usciamo ad un prezzo direttamente direttamente competitivo ma soprattutto un prezzo che con la qualità che ha quasi praticamente impossibile non poter prendere un prodotto del genere un'altra caratteristica e danni vi contraddistingue poi magari ci sentiamo anche con angelo appena riesce a liberarsi è la qualità del servizio che è garantito al cliente io non mi stancherò mai di ripeterlo perché sono stato in azienda su un'intera giornata con loro sono venuto più volte a trovarmi a quel giorno proprio siamo concentrati abbiamo sviscerato l'azienda presto vedrete l'azienda dall'interno e l'assistenza è uno dei fiori all'occhiello di Canicom cioè siete una certezza per chi è che viene ad acquistare i vostri prodotti non solo per Olosan ma per tutta la vostra gramma dei prodotti che voi rappresentate da Nikon ad ATN a Sportdog e chi più ne ha quasi più ne mettono guarda è un po' la forza della nostra azienda l'azienda si differenzia per quanto riguarda l'assistenza ci riteniamo di essere i miei di uno veramente lì per la serietà ma soprattutto per quello che l'azienda dà al cliente finale perché noi non ci interessa soltanto la vendita ma ci interessa anche il post vendita anche perché siete spesso volentieri sul campo organizzando molti meeting e quando organizzati i meeting i nostri amici cacciatori facciano il fucile in mano hai visto mai magari una salva sale ci può capitare quindi sono veramente contenti di quello che stiamo facendo Canicom sta crescendo sempre di più e per noi è veramente soddisfacente questo tipo di lavoro Remo io ti ringrazio canicomitalia.com ricordiamo il sito internet tra le altre cose rifatto da pochi mesi estremamente dettagliato veramente interessante diviso per brand schede prodotte molto chiari con tutti i dettagli ma poi se volete qualche informazione hanno uno staff di persone competenti gentili e disponibili questa è una delle prerogative che li accompagna da anni da quando la realtà era piccola ad oggi è cresciuto e si è diventati uno dei più grossi distributori italiani del settore io ti ringrazio di nuovo e in bocca al lupo per la prossima cacciata perché ti ho visto spesso volentieri impegnati grazie ciao